allora qua dobbiamo chiarire un paio di cose ragazzi perché vi potete anche disiscrivere se non volete accettare la realtà dei fatti ora io ho letto tantissimi commenti ho visto anche parecchi video di interisti capisco la frustrazione ma parlare di una partita falsata è veramente scandaloso allora veniamo alle accuse il rigore inesistente il minutaggio di quello ne parleremo dopo però il rigore cosiddetto inesistente perché lui la prende con la spalla non è vero se voi guardate attentamente lui la prende col braccio giusto ci siamo o la presa col braccio guarda giusto guarda rallentatore da tante angolature perché sembra che la prende con la spalla ma in realtà la prende col braccio ora qualcuno di voi potrà dire è involontario perché lui certamente il braccio non se lo può segare e ci sto però c'è una differenza tra che sto fermo e mi arriva la palla sul braccio che non è allargato ok allora non è rigore ma se io vado con l'intenzione di avvicinarmi col braccio questo fa sì che è un rigore nonostante io abbia il braccio sul corpo io comunque sono andato verso la palla con l'intenzione di prenderla quindi è un sacro santo rigore io ho visto gente che adesso si è disiscritta perché ho detto questo è la massa sto vedendo tutti i commenti anche i milanisti giuventini tutti che dicono sì siete stati derubati ma di cosa ragazzi io capisco anche la frustrazione del momento però il rigore sacro santo o questa è la prima accusa la seconda accusa il tempo diciamo che c'è stato tutto questo tempo di recupero scandaloso assolutamente no partiamo dai primi sette minuti iniziali che ha dato di recupero ok al novantesimo ha dato sette minuti allora si è andato a vedere due azioni del VAR ok due azioni del VAR dove ha perso due minuti in tutte e due le occasioni quindi un quattro minuti più i gol più Lautaro che si lascia che ha fatto teatralmente o come si dice teatralmente insomma ha esagerato che ha fatto finta di essere morto da quel colpo lì che si poteva tranquillamente rialzare quindi quei sette minuti sono sacro santo e sacro santi di recupero e poi nel recupero ci sono state pure azioni da rivedere il VAR in più poi se l'ha calciato così tardi dopo i sette minuti anche perché ha perso tempo per rivedersi l'azione al VAR quindi i minuti di recupero sono più che giusti io posso capire la frustrazione ma se ora ragionate a mente fredda è come vi dico io ragazzi quindi non potete accusare sul minutaggio non potete accusare sul rigore anzi perché io nel video ho detto un pareggio sacro santo dalla Fiorentina anzi vi è andata pure bene però con questo io non nego che non sia stato giusto annullare quel gol perché è stato giusto però vi è andata bene nell'occasione del gol di Biraghi se non sbaglio il numero tre della Fiorentina perché se non sbaglio D'Ambrosio è stato colpito ed è caduto e poi la Fiorentina ha fatto gol e giustamente ha annullato quel gol giustamente lo ha annullato però avete avuto culo in quell'occasione questa era una cosa a parte avete avuto culo perché se non lo prendeva ragazzi anche se D'Ambrosio rimaneva spero di non sbagliarmi col giocatore anche se D'Ambrosio rimaneva diciamo come dici in italiano in siciliano a dritta se rimaneva in piedi quel tiro di Biraghi non la parava perché Biraghi se notate spero di non sbagliarmi sul nome quando ha calciato ha calciato prima di tutto potentissimo e poi ha preso pure un giocatore dell'Inter in modo tale che c'è stata una deviazione e lì anche se D'Ambrosio era dritto era in piedi non faceva niente quindi giusto per annullarlo io non voglio dire con questo nulla però avete avuto pure fortuna in quell'occasione la Fiorentina è stata anche abbastanza ingenua nel momento del calcio di rigore che ha preso l'Inter perché non era un'azione pericolosa ora direte vabbè queste sono colpe diciamo alla fine è stato tutto regolato tutto regolato non è che dico giusto dare il rigore all'Inter giusto annullare quel gol però per farvi capire che la Fiorentina ha meritato e si stava quasi auto suicidando quindi il 3 a 3 se voi guardate la partita il gioco è più che meritato ragazzi è più che meritato onestà prima di tutto l'onestà prima di tutto ora io ripeto capisco la frustrazione però i minuti sono giusti del recupero e rigore è giusto voi guardatelo con quest'ottica qua e mi stupisco ma stranamente quando non sta giocando un certo Icardi mi stupisco che il maestro che è un ex arbitro che ne dovrebbe capire di queste cose qua tutta una volta tutta una volta faccia per la prima volta lui non ha mai accusato arbitraggi nemmeno quando la Juve ha ricevuto favoreggiamenti mai l'ha fatto ha sempre giustificato spiegato ora tutta una volta è incazzato a parte che fa tutto uno show teatrale nulla di vero e lo fa solo perché è mancato Icardi lui voleva confermare che anche senza Icardi oggi tu avresti vinto quindi se sei onesto arbitro della mia capocchia disonesto lo devi dire che sì è vero che non ha allungato il braccio ma ripeto ha avuto l'intenzione comunque quindi anche se tu non allunghi il braccio però lo usi in quel momento è un un fallo di mano quindi calcio di rigore sacro santo mi dispiace ragazzi ma questa è la realtà ora puoi anche disiscriverti qua sentirai non l'ecchinaggio ma le cose come stanno quindi anche se va contro i miei interessi ok l'avessi detto anche se fosse stato contro il mila perché l'onestà prima di tutto per questo video è tutto riflettete bene meglio che vi vedete questo video all'indomani perché lo sto caricando nel suo soggiorno della partita stesso e riflettete su questa cosa rigore sacro santo i minuti non sono scandalosi e non c'è nulla di scandaloso pareggio al di là di tutte queste cose che voi recriminate pareggio più che sacro santo in base a quello che abbiamo visto e vi dirò anche devo essere onesto ci sono state due falli dati a chiesa dove chiesa si è buttato questo è vero perché certuni accusano che chiesa è stato scandaloso come abbia parlato di lautaro martinez su questo vi do ragione chiesa due volte si è buttato e ha preso due punizioni inesistenti questo è vero che alla fine però non hanno creato gol però giusto ha sbagliato e lautaro comunque lì ha esagerato perché è vero che chiesa ha fatto sceneggiate e ha ricevuto le punizioni però quello di lautaro è perdere tempo per nulla lo ha fatto di proposito cioè anche se prendi la botta ti farà male senza ombra di dubbio posso capire che stai 10 secondi 15 secondi a terra però poi ti rialzi invece lui è stato lì proprio a fare sceneggiate quindi ragazzi alma alma per questo video è tutto rifletteteci bene e ci vediamo al prossimo video ciao il problema lo so quale maestre senza i cardi non hai vinto tu volevi fare un video lo so lo so però devi essere onesto devi dire che è il rigore